Partiti in vantaggio si porta gradatamente Time Fatal nei confronti di Mr. Gardener con all'interno Baleo Caos segue Lectio Brevis con in coda Donzella del Lago. Dopo i primi 400 metri di corsa posizioni invariate con Time Fatal che mantiene sempre il comando delle operazioni, in seconda posizione si è sistemato ora Mr. Gardener che ha scavalcato Baleo Caos, in quarta posizione Lectio Brevis ed in coda sempre Donzella del Lago. Cavalli ora prossimi all'imbocco della curva di fondo con Time Fatal che mantiene il comando della corsa nei confronti di Mr. Gardener, poi in terza posizione a largo risale Lectio Brevis davanti a Baleo Caos con in coda Donzella del Lago. Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo. Time Fatal sta allungando e ha preso 4-5 lunghezze di vantaggio nei confronti degli inseguitori capeggiati sempre da Mr. Gardener che ha all'esterno Lectio Brevis, più indietro Donzella del Lago e Baleo Caos. Time Fatal ha preso il largo e sta controllando la situazione con buone 7-8 lunghezze di vantaggio nei confronti di Lectio Brevis che ora emerge in seconda posizione su Donzella del Lago. Mr. Gardener non ha problemi Time Fatal che in scioltezza si impone mentre per il posto d'onore Lectio Fatal precede Mr. Gardener in lotta per il terzo posto con Donzella del Lago. Andiamo a rivedere questa facilissima affermazione di Salvo Basile in sella al numero 5 dello schieramento Time Fatal. In testa da un capo all'altro non ha avuto nessun problema e si è imposto con netto margine di vantaggio al posto d'onore. Il numero 3 è emerso il numero 3 che fra poco vedremo comparire nelle immagini Lectio Brevis, buon secondo quindi Lectio Brevis nei confronti dei duellanti Donzella del Lago a largo e Baleo Caos all'interno. Quindi il probabile ufficioso arrivo di questa seconda corsa di Napoli è 5-3.